Dopo aver vinto il titolo di Miss Trieste nel 1959, si è avvicinata al mondo dello spettacolo come fotomodella e interprete di pubblicità televisiva. Per Carosello, interprete di fotoromanzi, attiva come caratterista nel cinema fra il 1960 e il 1975. Ha lavorato in diverse commedie all'italiana e in film del cosiddetto cinema di genere. Come Peplum, nell'anno del debutto girò la regina delle Amazzoni. Film trile, poliziotteschi e western all'italiana. Ha girato film anche in Francia, Spagna e Germania, fra i registi con cui ha lavorato Sergio Corbucci, Antonio Margheriti, Camillo Mastrocinque e Dino Risi. Fra i colleghi si è mossa al fianco di Franco Nero, Alberto Sordi, Nino Taranto e Totò, verso la fine della sua carriera cinematografica. Spinta dal marito Gianni Medici. Nel 1973 ha iniziato a realizzare fotoromanzi per la Lancio. Fino al 1986 ne ha realizzati in totale 264. Anche se per la maggior parte in ruoli di secondo piano.